buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video oggi andremo a vedere Elsa quella con il pennello purtroppo io l'ho già aperta perché mia figlia ha voluto giocarci subito però vi faccio vedere subito com'è allora la bambolina sto ciuffo ribelle credo che vada così dietro vabbè si presenta così con questo vestito con lo spacco ha le scarpette di cristalli ghiaccio e dietro così e c'è il mantello vedete allora se non ho capito male bisogna usare questo pennello bagnato d'acqua e andare a colorare qua quindi adesso vado a bagnare un po il pennello in questo in questa parte qui e andremo a provare insieme la bambolina eccomi qua ho bagnato un po il pennellino e andiamo a vedere se funziona ed ecco qui Anna aspettate che la metto a fuoco ok ed ecco qui Anna aspettate che la metto a fuoco ok e di questo parte è uscita Anna e adesso andiamo a provare a vedere cosa ci esce da quest'altro lato e Anna molto molto carino molto molto e per i bambini è davvero una genialata insomma una bella cosa allora è molto carina Elsa poi adesso con tutte le bambine a tutte le bambine piace molto questo cartone e questa bambola barbie tra virgolette ve la consiglio perché è molto divertente mi sono divertita tantissimo io a far così vedete poi si apre qui e si riempie con l'acqua così dopo quando colori va direttamente da solo io mi sono divertita davvero tantissimo e voglio dire sono un adulto pensate i vostri bambini quanto si divertirebbero a utilizzare questa bambolina soprattutto le femminucce ovviamente e niente io ve la consiglio come regalo è molto carino e spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video vi ricordo che vicino al tasto iscriviti c'è il tasto con la campanellina cliccatela e mi raccomando così riceverete sempre ogni notifica di ogni incaricamento del video e niente un saluto un bacio un bacio un abbraccio ciao